La nostra Befana, Piazza Mercato, conclude in Natale a Napoli. Un Natale che è stato davvero lungo, pieno di eventi, di manifestazioni, di musica, di cultura e che ha avuto il clou nei quattro giorni di Capodanno. La Befana è un bellissimo ritorno, un ritorno nella sede in cui tradizionalmente si è sempre fatta la fiera della Befana, quest'anno con una forte imprinting istituzionale. Dopo i quattro giorni del Capodanno, a Napoli l'Epifania si festeggia per tre giorni a Piazza Mercato e in Piazza del Carmine, facendo anche da conclusione per questa edizione natalizia di Vedi Napoli e Poi Torni. Dal 3 al 5 gennaio ci saranno il villaggio della Befana con la fiera del giocattolo e della calza le bancarelle di giocattoli e dolci, la Notte Bianca tra il 5 e il 6 gennaio e il concerto della Notte Bianca con Valentina Stella. Come assessorato alle attività produttive e turismo e la seconda municipalità abbiamo coinvolto molte associazioni del territorio, da Cultura Musicant a Fondazione Comunità del Centro Storico di Napoli, a Piasso Gioca, al Consorzio delle Botteche Tessili, al Consorzio Antico del Borgo Refici, alle parrocchie di quel territorio, sono coinvolti i commercianti e veramente io penso che sia il suggello, la chiusura migliore del Natale a Napoli. Verrà contemporaneamente all'altro evento che noi pure abbiamo voluto sostenere che è Sanità Tattà, anche esso un evento molto radicato nel territorio della Sanità e dei Vergini che torna dopo alcuni anni, sostenuto da noi, dalla terza municipalità e ci sarà musica per una parte della notte tra il 5 e il 6 gennaio, musica in tutto il quartiere della Sanità, davvero un altro modo entusiasmante per concludere appunto il Natale a Napoli.